ciao a tutti i follettini e follettine ben tornati in questo nuovissimo video oggi video questi fatto da chiavi per le mie bambole reborn c'erano i saldi del 70 per cento allora ne ho approfittato allora la prima cosa che ho preso allora questo pantalone guardate che carino con questi puntini dorati molto molto carino piccolo piccolo è davvero adorabile follettini e follettine io nostra amo poi questa camicina guardate che carina con questo fiocchetto qui tutta bianca a righe rosa adorabile vedete con i bottoncini dietro molto molto bella questa poi un'altra magliettina questa qui tipo sul rosa pesco non so bella 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 con questa scritta petite amour petite amour bella 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 insomma mi piace non fate casa le mie pronunce come al solito schifine poi 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 abbiamo allora questo paio di scarpette eleganti che scarpette non ne avevo finalmente ce le ho guardate da 0 a 3 mesi rosa sono molto molto belle io l'estra amo alla follia vedete hanno questo fiore davanti sono veramente molto adorabili la suola così semplice il bottoncino qui per aprire a strap a strap bello belle belle poi un altro paio di scarpe che sono queste qui con questo gattino non so guardate che carine sono veramente super cucciose di questo argentato carinissimo con la suola bianca belle 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 infine abbiamo allora questa altra camicina aspettate che la sistemo bianca acqua guardate che bella guardate quei bottoni dietro è molto molto adorabile questa sì mi piace un casino poi come ultimo pezzo abbiamo questo completo con i pantaloncini e la camicina guardate che bella sweet day con tutta la fruttina nelle pere adorabile adorabile pollettine e pollettine bene pollettine pollettine questi erano i mini acquisti di chiavi se questo video vi è piaciuto mettete tanti like vi ricordo che giù nell'info box trovate tutti i link utili fermo poste mail e le mie magliette vendita tu per far tutto quello che vi può servire io vi mando un grosso bacione ma è al prossimo video ciao